198 classi in quarantena o monitoraggio, ci sono intere scuole, ammette il direttore generale Francesco Benazzi a rischio chiusura. Ci stiamo ragionando, spiega. Intanto Alex Dogana, per eseguire il tampone, lunghe code, tanto che è stato necessario l'intervento della polizia locale, la colonna di macchine nel primo pomeriggio raggiungeva la Noalese, a bordo molti genitori con bambini e ragazzi di tutte le età. Siamo a livelli molto elevati effettivamente, forse legato anche al fatto che abbiamo 24 squadre, diciamo, tra calcio, rugby, pallavolo, che sono messi in quarantena perché avevano degli atleti positivi e questo va a influire, perché sono minori, va a influire ovviamente anche sulla scuola. Sono gli ambienti extrascolastici per Benazzi, trasporti compresi, a causare la propagazione del contagio. Fondamentale è procedere con le terze dosi. Per i fragili la copertura è arrivata al 75%, ma va incentivata solo al 36%, quella degli over 80. Ma prenotare non è semplice. I primi posti liberi ad oggi sono a febbraio. La prossima settimana, già da sabato e domenica, riapriremo ulteriori, oggi abbiamo circa 9.000 posti, 8.000 posti disponibili. Quindi apriremo altri 10-15.000 posti in modo tale da dare a tutti la possibilità di poter fare il vaccino nel tempo utile previsto dopo il sesto mese della seconda dose. 81 ricoverati, 138 nuovi positivi nelle 24 ore, con il Covid che rallenta leggermente la sua corsa. Virus che al di là della fase acuta lascia dietro di sé conseguenze pesanti. La dirigente della pneumologia, Michela Romagnoli, parla dei molti pazienti trevigiani dimessi, ma seguiti ancora oggi, a distanza di mesi. Stanchezza, difficoltà respiratorie, ma anche disturbi neurologici che si registrano nel 70% dei casi. Come quelli di una collega di reparto, dice il primario, che ha avuto gravi difficoltà al suo rientro al lavoro. Disturbi della memoria, che sono forse i più frequenti. Disturbi nella concentrazione, il subito del sonno, per cui tutti sintomi che vanno ad impattare su quella che è la vita professionale anche delle persone.